All'estero c'è molta più disponibilità da assumere stranieri, quindi bisogna avere il coraggio di andare, cioè prendere con la valigia uno prende e va, trova, trova, perché all'estero c'è molta più abitudine, molta più apertura all'internazionalità, sono le aziende italiane che se possono prendono l'italiano, c'è poi proprio un po' diversi multinazionali però, all'estero c'è apertura, quindi se la domanda è io trovo che il livello di preparazione offerto dall'università italiane sia un livello valido, quindi uno studente che esce da un'ingegneria gestionale, Politecnico, oppure Bocconi, oppure Luisa Roma e va all'estero, trova, però è un emigrante, questo deve essere chiaro, è uno che va, si mette sul mercato, cerca, il mercato c'è, le evidenze che ho io sono queste. Però deve cercarselo da solo. Ah sì, sì, deve, emigrante. La vostra cucina si è cercato da solo. Emigrante. Grazie.